Alla sera ad Amatrice, oggi è stata un'altra giornata difficile, una giornata segnata dalla pioggia. Noi siamo andati in un altro dei campi dove sono ospitati i superstiti del terremoto, dove ci sono tanti volontari. Vediamo. La pioggia si combatte anche con la ghiaia. Qui siamo al campo dell'AMPAS, l'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze ad Amatrice. 142 le persone ospitate e 62 i volontari che arrivano da tutta Italia. Giovanni è romano, viene da Ostia. Stiamo spianando la ghiaia sotto la mensa, così che stasera le persone possono mangiare non con terra e fango, ma con la ghiaia. Quella di oggi è stata una giornata difficile, pioggia fino al primo pomeriggio. Nelle tende si cerca di andare avanti, tra i ricordi e la speranza. La vita nel campo è scandita da orari precisi. Si cerca di sostenere le persone che il sisma ha ferito. Rossella è pugliese. Per me, essendo donna e mamma, quindi è abbastanza... Cioè, è bello. Io sono contenta di poter portare del mio e del nostro ad altre persone che in questo momento hanno bisogno di aiuto. Qui ci sono attività per i bambini, c'è il parrucchiere e una lavatrice per il bucato. Questa è la croce del campo. Non avendo un simbolo qui nel campo, ci siamo adoperati per poter fare una croce. È una croce artigianale, ma che comunque il valore è uguale a quello che c'è nelle chiese. Antonio, a 65 anni, si considera un amatriciano doc. Ha la passione per la musica. Il sisma gli ha portato via gli amici. Tra loro anche il giovane Filippo, morto stamane a Pescara. Con lui suonava nelle notti d'inverno. Non ha perso la speranza e il suo grazie va ai volontari. Molto gentile, c'è gente, veramente. Dobbiamo veramente ringraziare. Anzi, a molti gli dico, guarda, ci state viziando. Perché il troppo penso che sia troppo. Però sono molto, veramente molto gentili. Mangia buonissimo. C'è tutto. Non possiamo lamentarci.